ma se io se io sono cambiato se tu sei cambiato se lui è cambiato anche il clan di pechino può cambiare ma oggi aspettavo il comunicato di suning per il rifinanziamento con picco il nove avevate dichiarato riprendendo una notizia su twitter che poi avevano parlato di cta che con l'inter non c'entravano nulla io l'ho fatto notare sono stato offeso ma non ci sono problemi oggi dove non ho visto nessun comunicato ufficiale anzi purtroppo per chi sosteneva la tesi pioggia di milioni dal mondiale per club io sono contrario al mondiale per club soprattutto allora sono contrario con questa struttura attuale con una struttura che puoi investire non sono contrario perché con 13 giocatori buoni non puoi andare ad affrontare cinque competizioni e non puoi giocare fino a fine luglio sballi la preparazione contratti che scadono che non sai come fare a rinnovare cosa fai rinnovi per due mesi perché c'è il mondiale per club quindi ehm con questa struttura partecipare ad un montiale per club fa ridere per me ad oggi è una mia idea è una competizione o forse era perché a quanto pare non sembra che si faccia era una competizione per quattro cinque squadre al mondo per quattro cinque ricconi mettiamola così ma attenzione perché calcio e finanza dice i calciatori alla fifa stop al nuovo mondiale per club o faremo causa calciatori sono contrari al mondiale per club c'è un articolo di calcio e finanza che vi metterò in descrizione le associazioni dei calciatori stanno verificando se hanno le basi legali per obbligare la fifa a rimodulare un po' il tutto o addirittura non farlo per nulla quindi quindi ad oggi ad ora non c'è nessuna decisione ufficiale non verso l'un altro ma ci sono i calciatori pronti a dare battaglia contro questo mondiale per club io ricordo a tutti gli ottimisti ma soprattutto a tutti i tristoni a tutti quelli che non vogliono bene all'inter perché chi fa finta di non vedere queste cose per me non vuole bene all'inter non sto dicendo che non è tifoso che non ci sente per l'inter è una cosa totalmente diversa chi fa finta di non vedere questa situazione al quanto raccapricciante secondo me non vuole non vuole bene all'inter ricordo che l'inter quest'anno ha garantito la continuità aziendale grazie ad un prestito l'ha garantita per il minimo per il minimo di quello e lo poteva garantire ovvero sia in arco temporale parliamo di 12 mesi quindi l'inter ha garantito l'autorità aziendale per 12 mesi con un prestito che non è in grado di restituire è questa la fotografia della nostra situazione finanziaria e chi fa finta di vedere queste cose secondo me indirettamente ripeto non ti sto dicendo che non ti fili inter o che non sei un interista ti sto dicendo che secondo me te non vuoi bene all'inter perché far finta di queste cose qui vuol dire non vuole non voler bene all'inter ma parli di mercato con chi con questo qui parli ma ma cosa parliamo a fare di mercato te l'ha già detto ausilio ausilio ti ha fatto capire cosa sarebbe il mercato quest'anno con zang sarebbe un mercato a zero venti per fare un mercato a zero perché hai delle rate di calciatori da pagare siete voi i primi e non volete bene all'inter perché voi state andando su una macchina 300 all'ora che ha bisogno di taglianti e non e non ve ne frega nulla siete pronti a grippare il motore ma voi non volete fare i taglianti non ve ne frega nulla a voi voi capito è come è come uscire una persona che sta poco bene va bene e fregarsene perché magari è una bella persona ci fa stare bene ma quella persona va curata sta male e non bisogna far fitta di nulla ed è questa la nostra situazione finanziaria potete cambiare anche voi parli di mercato o chi con chi parli di mercato con questa proprietà puoi parlare di mercato ma sta fermo ma quale mercato dove è lì il comunicato disunico non l'ho visto io oggi bisogna cambiare anche bisogna la proprietà cambia deve cambiare anche per riacquistare la nostra identità perché questo ci ha fatto perdere anche la nostra identità vincere l'unica cosa che conta lo dicono alla juve te lo ripeto vincere l'unica cosa che conta lo dicono alla juve non all'inter capito tra l'altro ho letto in questi giorni che la mauritania ha sorpassato l'italia nella nella classifica della libertà di stampa cioè questo ti fa capire la comunicazione giuse ma a dieci giorni dalla scadenza non si sa nulla c'è il regime cinese ma come te lo devo dire che non deve trapelare nulla come te lo devo dire che lui deve passare da salvatore della patria tra l'altro dov'è il presidente dell'inter lo hanno ricongelato ora dopo le festicciole lo hanno rimesso ricongelatore dov'è dov'è uno che non partecipa alla seconda come faccio io a chiamare presidente uno che non può venire a partecipare alla seconda stella cosa devo chiamare presidente presidente di che della stragra della rana presidente di cosa senza soldi e con debiti in con con una società che si legge solo sui debiti presidente di che vincere l'uniosa per conto lo dicono i gobbi non io io guardo altro guardo al di là quindi occhio perché vi salta anche la pioggia dei milioni del mondiale per club e te lo ripeto affrontare cinque competizioni con questa rosa più taremi e zelischi è vergognoso eh affrontare cinque competizioni con questa rosa tanto di cappello che hanno fatto un miracolo sportivo ma ci sono tanti giocatori avanti con l'età ci sono tanti giocatori che hanno dimostrato di non essere da inter più taremi e zelischi è vergognoso per una squadra che si chiama inter è vergognoso come te lo ripeto e concludo il video non parlo per ora di calcio mercato non parlo nemmeno di calcio per ora va bene voglio parlare di queste cose qui io parlo di cosa mi pare come vergognoso garantire la continuità aziendale con un prestito che non riesci a ripagare ci siamo capiti dov'era e dov'è il coso l'annuncio del nove maggio dove è andato a finire dove l'avete messo l'ufficialità di pinco dov'è l'ufficialità dov'è il comunicato del del tuo presidente amico di un altro gobbo dov'è il comunicato non ho visto nulla ciao vite